Qui mostriamo il negozio di pietre, ma anche in meditazione, anche bar, più grande della Repubblica Ceca. Allora, qui fanno degli eventi e delle mostre d'arte, di meditazione. Cerco di non dar fastidio mentre faccio il video. Guardate che roba. Poi qui hanno tantissime cose. Eccolo che guarda questi. Cosa sono questi, Nicolò? Di diaposono. Ecco qui. Ecco qua poi. Guardate quanta roba incredibile. Mio padre dice sempre che faccio i video troppo veloce. E rimanete con me perché è lunga. Qui c'è una libreria intera, tutto il cielo. Qui c'è agendine. Io non capisco questi libri, purtroppo. Quaderni con disegni particolari. Aspettate, aspettate. La parte più bella deve ancora venire. Andiamo su. Essenze. E incensi. Prodotti vari per la bellezza. Dentifrici, creme, braccialetti. E il bar. E il bar. Ecco. Bene, ce l'avete un negozio così di pietre? qui c'è un video.